Il tema delle liste d'attesa è un tema molto complicato. Io avrei fatto un intervento completamente diverso se me l'avessero chiesto sei mesi fa, ma quello che mi ha fatto molto piacere presentare sono i due casi di successo che in Italia sembrano emergere, che sono sia il Veneto che l'Emilia Romagna, dove questo tema è stato affrontato e per il momento sembra essere risolto con dei livelli di performance del tutto ragguardevoli. Tant'è vero che alcuni nostri ospiti stranieri hanno detto ma perché dovete fare un convegno qua visto che il problema l'hanno risolto. Il tema è che questo è costato molta fatica e molto sforzo e questo è importante. Bisognerà vedere se questo risultato può rimanere nel futuro o se la tensione e lo sforzo che viene prodotto poi in qualche maniera tende a usurirsi una volta che il problema esce dai radar della politica. Però credo che sia un elemento di grande successo.